Sindaco De Luca, il furto dei cavi elettri al cimitero è un atto puramente vandalico? Un atto vandalico come qualche altro, ogni tanto si ripetono, ma non ci facciamo intimorire, non ci interessa, andiamo a riparare, anzi ci mettiamo di guardia per beccare questi cristiani che si avventurano in queste cose, prima o poi li becchiamo. Pensate di mettere delle telecamere per controllare meglio il cimitero e il territorio in generale? In questi giorni ci sarà un incontro operativo anche con l'assessore e insieme si deciderà da farsi, di sicuro qualcosa faremo. E' un atto di inciviltà che dovrebbe essere portato all'attenzione di tutti per evitare che ci sia qualcuno che possa emulare questi atti? Io penso che qualcuno vuole divertirsi perché poi di furti veri e propri non se ne verificano, infatti anche in questo caso non è che c'è stato un furto di rame o dei tombini in ghisa, è qualcuno che si diverte la notte a fare le passeggiate al cimitero, noi lo becchiamo e vediamo che cosa vuole fare. Al contrario invece gli anziani sono andati in gita felicemente? Meno male, sì, gli anziani sono andati in gita. Stamane un gruppo di 65 anziani è partito per andare a Fiuggi e ho incontrato volti soridenti, volti solari, quindi sono sicuro che trascorreranno un bel periodo di soggiorno a Fiuggi.